Il comune di Sulmona si adoperi rapidamente entro l'entrata in vigore del nuovo orario di Trenitalia per risolvere le criticità sollevate dai passeggeri con la richiesta della sospensione dei nuovi orari, il ripristino di quelli vecchi e un tavolo di trattativa con Regione e Trenitalia. Non ho chiesto stamani i comitati dei pendolari, al sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, all'assessore comunale Trasporti Alessandra Vella e al consigliere comunale Deborah D'Amico. Il vertice a Palazzo San Francesco si è tenuto alla vigilia dell'incontro di lunedì in Regione. Tra le richieste dei comitati, l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione tra comune di Sulmona e coordinamento dei comitati pendolari. Supportare l'opera di ausilio e patrocinio dell'attività dei treni storici sulla Transiberiana d'Italia. Potenziare l'orario e collegamento urbano con la stazione in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni. Adottare misure di ampliamento e potenziamento della capacità di parcheggio ausiliaria alla stazione quale centro dell'intermodalità di trasporto pubblico locale. Approfondire l'intervento inserito nel Masterpan Albruzzo-Bretella-Santa Rufina al fine di non indebolire la capacità della stazione di Sulmona e di promuovere in Regione proposte di potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee. Riguardo il nuovo orario di Trenitalia, i comitati chiedono di prestare attenzione su tutte le corse, particolarmente sul treno delle 7.25 sulla Sulmona-Pescara e delle 20.15 sulla Sulmona-L'Aquila. Riguardo il nuovo orario di Trenitalia Riguardo il nuovo orario di Trenitalia